Ma buongiorno amici, no il TF4 è un'altra cosa Allora, qui su TS abbiamo il signor Ikimoto che ci farà compagnia per tutta la durata di questo video e anche oltre Stiamo giocando Certo, intanto passano le moto Ovvio, io ti pago per essere qui con me Comunque, dato che è in live, io non riesco a portare in modo sano e tranquillo Isaac per via di problemi con OBS Io ve lo registro e ve lo porto su Youtube Così siete tutti belli e contenti Faccio una nuova run perché tanto... Esatto, facciamo Blue Baby perché devo sbloccare ancora il cuore Quindi vediamo con la chiave rotta, è bella Uh, Burning Basement Ma io lo... tipo... Ah no Voglio... Un Basement normale Il Basement 1 Curse of the Lost, va bene Io sono già perso di mio E allora Mentalmente, sì Ok, quello che si è suicidato nel fuoco Ikimoto, ma io come posso renderla partecipe? Ehm... Bestemmiando fortissimo quando muore così rido Ah, vabbè Anche perché io sto facendo tutt'altra roba Cioè, tipo, sto giocando a Pokémon quindi non... Ah, vabbè, quindi non sei... No, con Isaac ci avevo giocato, ci avevo poso un po' la mano, ho fatto cose... Però non mi aveva più... Una bomba Conquistato, eh Perché morivo male sempre Eh, ma ci vuole tanto, tanto allenamento su questo gioco Anche se avevo tipo brainstorm lì, come cazzo si chiamava l'affare, non... Non... Oh, no Niente, un cazzo Neanche piangendo Eh... Non è facile Nessuno ha mai detto che è facile Però alle volte sai come potrebbe essere un po' meno cantante la... Esatto, la mucca Eh, qua mettiamo la bomba Sì, per girarci un po' attorno Ovviamente Eh, ma per girarci attorno ce ne vuole perché è talmente larga Eh, già Comunque, bandando le chance abbiamo preso un cuore in più blu Perché ricordiamoci che Blue Baby è praticamente Isaac morto E non può ricevere cuori rossi, cioè non li può prendere proprio Può prendere solo cuori blu Allora, scendiamo giù perché io ancora non ho visto la stanza dei desideri Altresì conosciuta come la stanza degli oggetti Che è un'altra bomba Eh, vediamo cosa ci dà il gioco come primo oggetto Te la commento come la stanza di stoccazzo dove non trovi mai un cazzo di utile Non è vero Tipo, in una scorsa partita ho trovato il libro delle rivelazioni Che per Isaac, cioè per Blue Baby è molto buono Dato che ogni tot stanze mi da un cuore blu Ah, ma certo, ma certo E c'è la possibilità anche di rompere il gioco Facendo... facendolo schifo Eh, perché devi romperlo? Eh, beh, sei un bel gioco Perché devi romperlo? Non capisco perché tu devi romperlo Sì, hai chiamato Lo so cosa vuol dire rompere il gioco Lo so che lo sai E io ti sto prendendo in giro a mia volta E allora ci sarà un'altra persona a prendere in giro tutte e due Perché stiamo facendo i coglioni Perfetto, quindi scrivete nei commenti Prendeteci in giro Che bella questa stanza Eh, vabbè Guarda che c'è un gioco che ci sta laggando Invece poi non è vero Perfetto, questo è un oggetto totalmente inutile No, non è vero Lo prendiamo e ogni tanto ci droppa un ragnetto blu che ci aiuta Ma, ah, ne... Non lo sapevo che non potevo fare la cacca dentro l'assenza degli oggetti Ti sei caccato in mano? Praticamente sì Allora, qua c'è l'hast Eccolo, il ragnetto Il ragnetto lo ricordiamo come le moschie fa il doppio del danno Allora, una pillola Ferromoni Va bene Ma c'hai il coso del danno di fianco che io non lo so, non vedo Il coso del danno? Chi è il coso del danno? Cos'è quelle statistiche laterali? Eh, c'ho 367 con la base di Isaac Ah, ok, perfetto No, ma c'è l'hai comunque laterale che si vede quanto... Certo E non me ne ricordo più se era un add-on da aggiungere o se... No, dall'ultimo aggiornamento Barra DLC L'hanno aggiunto di base LSD cosa è? LSD, sì Va bene, andiamo al boss e vediamo chi è Io penso No, non vale la pena aprire quel coso Che... Abbiamo un oggetto di mamma in questo momento Perché abbiamo la parrucca di mamma che è infessata dei rami Larry Junior Ah Ma cos'è quel vermicello simpatico? Eh, ma sono quattro però, non è tanto simpatico appunto Ah, no, sono quelli stronzi allora Eh sì Già ho preso due danni, ho due cori soltanto Quindi stai dicendo che stai per morire? Eh, no, però non siamo messi benissimo Ah, posso Vediamo che ci ha dato Speed, shot Vabbè, ok A posto Un aumento alla velocità e il range Dei proiettili E ci ha droppato qua una chiave Eh, proiettili, lacrime Vabbè Quello là No, pensavo avessi preso qualcosa che ti cambiava Lo sparo No, no Mi ha dato una siringa che aumenta la gittata e la velocità La troca Uh, un Uno scrigno rosso Circondato da fuochi rossi Che sono bastardi Ecco, tipo col cuore Affanculo Quel cuore non lo possiamo prendere Due troll bomb, mi sembra giusto Dentro lo scrigno? Sì Simpatica Molto Dai, come mi ha preso E niente, siamo con i soliti due cuori E stiamo per morire Pensavo forse con i soliti gnocchi No Ok Ok, questo è un oggetto di merda Che lo prendo solo per la cronaca Lo ricambio Il glass cannon Ti fa arrivare a Uno di vita Però spari Fai un danno della madonna Ah, però abbiamo Del small rock Finalmente un aumento di danno Buono Buono Perché già per il secondo piano Arrivare a Con così pochi Poco danno Non è il massimo Va bene, va bene Ah, tra l'altro qua c'è un altro Perfetto Tanti cuoricini per noi Spero il tanto di non Di non sprecarli così a cazzo Anch'io comunque ci devo riprendere un po' la mano Perché non gioco a nessun gioco da oltre sei mesi Poterne un po' E non mi piace tanto il genere Potresti giocare a pokemon? E non mi piace No, ho preso la pillola e mi fa diventare enorme Vabbè, questa partita tipo è già persa Ah, sei ingassato Molto Cos'è una pillola di grasso? Pillola di grasso Ok Bella questa stanza proprio Ragnetti C'è il ragno e l'antiragno Si annichiliscono a vicenda Prima uccidiamo lo spawner Come ci insegna Nonno sir Nonno sir Sì Prima vanno uccisi gli spawner Cos'è uno spawner Quei portali viola Tipo una roba del genere O i portali viola Comunque qualsiasi entità che Spawna gente Ah, tipo quella che rotta e Vengono fuori le mosche Sì, qualsiasi cosa Qualsiasi Mostro che Vengono fuori le mosche Ok Quello che rotta sarebbe Non lo so È un mostriciatolo che tipo Tossisce, rotta o cose del genere E tipo vengono fuori le mosche Ma forse è un boss Mi sto confondendo No, può essere Va bene, niente di particolare Eh No, è un boss Perché c'ha le mosche Che girano attorno Ok Salve Ocramo E saluta il tubo Saluta YouTube Ocramo Saluta Ciao Viti di Z Ciao Vediamo che C'è il monstro Va bene Siamo giganterrimi Ovviamente siamo grandi quanto mostro Sì, esatto Esattamente Ti vomita tipo palline rosse addosso e Eh, ma il fatto che siamo belli grandi Quindi schivarli non sarà Semplicissimo Però ce l'abbiamo fatta E olè, ora ci dovrebbe essere il patto Uh, la Mr. Dolly E ci dà tanti cuoricini Vediamo cosa ci Oh Il signor diavolo Ci dona delle casse rosse Meglio così Sempre le troll bomb Dei ragni di merda Eh, quindi la terza sarà quella buona Due, tre moschine Va bene Grazie signor Satan Per averci dato un cazzo E scendiamo giù Allora, allora Vediamo un po' Che merda questo posto Non dirò a me che sono tipo in una casa Che sta bruciando È tipo mezza di roccata E sto cercando un Charmander Quindi fai ti fatti di voi Ah, perfetto Uh Non so cosa fa il mitra del Papa Qua del vescovo Non lo so, non mi dico Prendiamolo Allora, sono Siamo benedetti Di fuoco decente Non lo miostante Nel merda Non mi ricordo cos'è che fa Non mi ricordo proprio Sì? Ho preso la mitra del Papa Del vescovo Ma non mi ricordo cos'è che fa Mi dice solo che sono benedetto E quindi fai i patti con l'angelo e non col diavolo Eh, praticamente, sì Visto che è Sì, è il 50% 50 e 50 è un cazzo No, è 50 e 33 Vabbè, ma Visto che il signor 666 non ci ha dato niente Di utile Dai, vuoi morire? Quanto sei duro? Eh, eh, eh Ah, posto No, abbiamo anche una chiave No Invece stiamo sempre Spawnando sempre più Ragnetti Ah, quindi sei Un ragnofilo C'è una bella bomba Sì, sono diventato io Uno spawner praticamente Non lo vedo del centro della capra che gira Certo Ma io me lo vedo a zitta che entra in una stanza Dal suo corpo Pfff, esplodono i rangi Ah, più o meno Sì Siamo arrivà Non riesco a fare male stanze di questo genere Mai La donna quant'è grande quel mullica Ok I rossi sono molto gestibili Ma mi dica signor canale, mi dica perché non trovo Charming in questo posto Perché non lo devi prendere? Non ti serve No, io lo devo prendere Ma lo deve prendere Allora, spieghiamo alla musica del video Se noi andiamo alla Formula Evolution online Eh, lui sta cercando di catturare di Charmander Alla fine di cazzo Una volta catturato Una volta catturato Uhhh, Cricket's Heads Finalmente un po' di danno Abbiamo un bel danno adesso Voglio un cazzo di Charmander decente Voglio un cazzo di Charmander Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? O di fuoco Ehi, Kimoto Voglio un... Un Pokémon di fuoco Esatto Voglio un Pokémon di fuoco Ma lo sai che ti brucia il culo poi? La gente che muore in live No, ovviamente è un video Cos'è sta merda? Ma... Niente, la senza gli oggetti allora è là sopra A questo punto Qua c'è il boss C'è il boss E il boss? Dai, io però voglio diventare più piccolino Sono troppo enorme per andare avanti Ah, quindi sei come la cantante Sì, ma molto più grande Cosa molto improbabile Allora, abbiamo Sei molto più grande Uh, fico, ci ha ritornato indietro la chiave Allora, questo è... Burning Blast Ci da un po' di bombe E siamo diventati infuocati Vediamo cosa c'è nello shop Un cazzo Facciamo saltare lui Va bene Se ne possiamo andare a uccidere il boss Che mi sa che... Qua facciamo ben poco Anche se un po' di velocità mi servirebbe Policefalo Una modalità co-op Eh, ma è solo in locale Ah, che pacco Eh già Ah, ma preso Star E l'abbiamo segato Un funghetto Amaci 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 Ah, no, non funziona proprio È proprio... Proprio solo in locale Non funziona Non è questione di Amaci o cosa del genere Con la condivisione dello schermo con Google e... E... Giochi... E... E... Infatti con Team Weaver e... Io schiacci... Ma... Cosa... Non vi è chiaro di... Non si può fare Ma non perché... Ma non esiste la... Non c'è... Non esiste proprio Uh... No, non hai capito Io col Team Weaver... Oh, il locale vuol dire che tu usi la tastiera, giusto? Sì Oh, se io uso Team Weaver io posso usare la mia tastiera da qua che muove la tua E tu muovi fisicamente la tua Certo Vabbè, uno può giocare anche col controller volendo Eh... Ah... Vediamo qua cosa c'è Non abbiamo due chiave Vabbè, non avete capito un cazzo No, no, noi abbiamo capito benissimo Eh... Stai diventando... Stai diventando curo come l'orte Ok Quanto hai saltato tu? Ok, cosa hai fatto? Un tizio ha saltato Ma... tantissimo Ah, ha fatto più che bene Salta fortissimo Salta fortissimo Aaaaaaaaaaaaaaah Va bene Ma... Sei morto o sei ancora vivo? No, sono vivo Sto bene Vabbè, vaffanculo Beh, devi morire per fare un po' di show per gli spettatori Se no non ti possono prendere Se mai è più interessante una partita in cui vinco magari, no? Che è una partita in cui dura cinque secondi Sblocco achievement Ma quello è un altro discorso Eh, ma io pubblico anche i fondi Perché le partite fanno più audience Perché la gente ti dice Minchia, guarda che sti sfigati E in cinque minuti muoiono Invece quelle noiose da trenta minuti Oh, cazzo, pupallo Ok, adesso... Adesso... Adesso posso dire che... Abbiamo perso la partita Perché non mi ricordavo che facevo questo oggetto E mi spara in diagonale Sono due colpi ma mi spara in diagonale Quindi abbiamo perso Dammi Va bene Eh, come rovinarsi una run Prendendo un oggetto di cui non si ricorda L'utilizzo Cosa che fa Va bene Potevi chiamare Serra un attimo Sì, certo Ah, mezzo cuore, un cuore intero, buono Vedi, se stai esagerando per anno Eh, come lo uccido quello? Ne vale una bomba? Sì, ne abbiamo tante Due minuti a più muore Monetizza Si fa il big money Infatti adesso c'è due case Due computer Anche due stanze E due... Due fidanzate A due a due No, per stanze Chi è che fa sta vita qua? Scusa Tu Io Perché dovrei fare io la vita così con... Ecco, pubblichi tanti video da 5 minuti per muori sul pubblico Fai soldi Sì 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 A parte le stronzate Dai, muori, muori Bravissimo Che se non ne valeva la pena, invece ne valse la pena E' tornata indietro la bomba E' raffanculo Ok Siamo giganteschi proprio Sei enorme Gordi Gordi Dovato Charmander Eh? Dovato Charmander Anzi Charmander Charmander No, non l'ho ancora trovato Se ti interessa Eh, questo è molto semplice come boss Infatti l'abbiamo segato via Allora Allora Questo è HP e Regeneration Non so come funzioni Regeneration con i cuori blu E abbiamo il patto con l'angelo Che ci da Scapular Che non so che cazzo faccia Ma io lo prendo Perché è gratis Si Dai scendiamo giù perché già abbiamo visitato tutto Ma si, tu ne dubbio prendilo Si, si Ma che me ne frega Ah Vedi, vedi, vedi Tra l'altro E' un accenno di Di gayagine questo Vedi? Si, infatti Ok Gay Ok Allora, non abbiamo chiavi Andiamo via Ah, ok Ci rende le lacrime Ghost Dream Questa che faceva questo? Ah, lo shop Ok Ok Sempre al solito le Ah no L'assenza segreta Ah L'assenza segreta Ah L'assenza La morte nera Ah no Era proprio così La luna nera Eh Eh Sono Guardate come si sono bugate tutte le monete che vibrano Bella questa istanza Ah Quindi magari hanno la vibrazione e non suonano quando cadono Esatto Allora Compiamo le cacchie visto che abbiamo La La pietrified Puppa La pietrified Puppa Allora Vediamo giù cosa c'è Perfetto Equality Non mi serve Praticamente questo qua quando hai gli sta No Quando hai Monete Bombe e chiavi uguali Ti aumenta Un po' il danno mi pare Però non è il nostro caso Perché tu vai tipo 50 bombe e 0 chiavi Esatto Ti sembra che lo sospettavo No in verità c'ho 38 monete e 4 bombe e 1 chiave Ma in ogni caso non è Piazza giù 3 bombe a caso Piazza la bomba e scappa Non lo conosco quell'indirizzo Ah Via le mani dal naso Ehm No Via le dite dal naso e via le mani dal culo Via le mani dal naso Perché tutto il naso Tutto tutte le mani ci entrano Ah beh allora se parliamo di cose aperte vuoi non parlare di una cosa in particolare Mamma di lord No pensavo più a quella famosa cantante Ah sempre la ti va il pensiero Eh già Sempre la quella eh Ti giuro con questi spari diagonalni sto annoiando Si sta annoiando eh Potrebbe essere la volta buona che abbandona la partita Non lo vedete E che faccio il resto del video Eh? Che faccio il resto del video Fai vedere come ci si registra Poi vedere come si vanno a tutti Anzi tagli il video E poi ci vabbè non ce l'ho poi giocare adesso Poi dopo la partita dopo due giorni e lo vinte Ciao Così hai la vittoria hai la vittoria morale ma non Si come no come no Incessive Riusciranno i nostri eroi A farla Franca o sarà Franca a farsi i nostri eroi Cosa? Non era così? Ma smettila Cosa mi ha colpito? Ma non ho detto niente di strano Non ho detto niente contro i minorenni O altre cose che possono essere Scandalizzati eh Si minorenni Allora Qua non c'è un cazzo e Mi sa che dopo la doppia stanza là in alto Andiamo prima a prendere Tu vado quello che si chiama Commander Mars Ecco perché non zio di pg Perché? No Che? Non ho capito Commander Mars Qua in gioco E allora? C'è un cazzo di pg Cretino Cretino Vedete si stronzi che spawnano i ragni Sì, più ragni per tutti Uh, cos'è questo? Sister Maggie Questo spara... Sì, ogni tanto spara un proiettile Vabbè niente di particolare Ogni tanto spara un ragno ma... Eh... Faccelo... Sono stato un babbeo Perché potevo evitare di usare una chiave Questa qua cosa è che faceva Chris community Evelab Vabbè sto mischiando un po' di cose qua in partita Facciamo saltare sta roba Stai cercando di rompere la run ma non ce la fai Non è vero Giusto? Giusto Non è vero No, voglio vedere qua cos'è Non ti ha insegnato bene Carva a rompere le run Non è quello Questo è? La bibbia, perfetto, la bibbia ci piace E a sto punto Esatto Esattamente, la bibbia è Non mi ricordo ancora Eh, l'ho comprata scontata del cinto per cento L'hai comprata scontata del cinto per cento sti gatti 50 Ah, ho capito del cinto Eh, il cinto per cento del gatti Ho sbagliato E allora Non quanta fatica Ok, monstro Un diagonale si può fare Andiamo In diagonale In diagonale In diagonale 5 verticale Ah no, scusate Vai Non ci dobbiamo stare di lato perchè lui è il brimstone Ti sbrighi a morire E se non ce la voglio lascialo stare Se deve da sbrigare Se deve da sbrigare Oh Mi sono incastrato Oh, e scastrati Levatiti dal cazzo Ma non lo dici più ha bloccati scusate No Perché? Perché lo dovrei Dovresti Perché? Ah, questo mi piace Dove è il mit Va bene Lasci Andiamo giù Andiamo a sconfiggere Mamma Così almeno La vinci facile quella Cioè Ovviamente L'esperienza è sicuramente molto bene Cioè Ho messo La divisione dell'esperienza Eh Non funziona molto bene Cioè Ho messo più o poco come davanti Ho switchato Eh Il secondo poco Ho ucciso qual'altro Il secondo poco Ho 163 Punti esperienza Il più una presi 3 Che bravo che sei Ok Direi che funziona bene Benissimo Perché vuol dire che devi allenare uno per uno Il condivisione dell'esperienza Non serve A una ceppa di E' sta cosa? La ceppa di minchia? No Le left hand Cosa fa la mano destra? Eh la mano sinistra Left hand pat Guarda mentre viene usata la testa Vabbè Facili battute sulla masturbazione Vediamo cosa c'è qua Poi son bombs Beh siamo abbastanza forti da Da a morire male Da a morire male Da a morire malissimo Schifi Che sono questi schifi? Eeeh Ma basta ragni Basta Servono più ragni mio signore Nooo Perché no? No Cosa ti hanno fatto con i poveri ragnetti che non ne vuoi più? Allora che cazzo? Posto Ma non i miei Quelli la Ah Dillo prima Era ovvio Questo cos'è? No Mi interessa Buona Si ho sentito Oh la stanza di oggetti C'è dark boom Ora me lo dai dark boom Minchia ora me lo da dark boom Chi sarebbe? Vaffa Eeeh Quello che raccoglie i cuori rossi e te li trasforma in blu Che per blu baby è ottimo Vediamo se è qua Eh sto perdendo i cuori a cazzo Perché sono disattento Ovviamente Dai che non c'è tempo per perdere Una monetina Affanculo Come perdere mille cuori Ok No per più cuori sto perdendo Ecco vedi questa conformazione della stanza ci incula altamente Perché? Perché Perché potevo sparare solo In modo In diagonale Facevo Esatto Bene abbiamo ucciso la mamma Abbiamo preso Allora Ora voglia Beh vogliamo perché Allora Prendiamo questo Prendiamo questo Rimaniamo con mezzo cuore E andiamo giù Tanto moriremo appena entrati Nel Nel womb Che schifo Che schifo Allora È un attimo eh Eh sì Che carino Ah Abbiamo tutti e quattro i I I cavalieri dell'Apocalisse Che bello Che si scambiano ogni tanto Perfetto Vuoi morire? Vuoi morire? Vuoi morire? Grazie Perfetto Perfetto Andiamo avanti Vediamo cosa Troviamo qua E siamo morti ovviamente Va bene Va bene signori Ci vediamo in prossimo episodio Spero che vi piaccia Salutate Kimoto E il signore Kramo Che hanno fatto i culi Tutto il tempo E là Non è vero Ci vediamo con un altro video Di un'altra cosa Vediamo Non farlo Non fatelo Vabbè Che non c'è più Che non c'è più E quindi vi darà la pagina 404 Eh Probabilmente sì Battuta not fine Esatto Ciao